Buonasera cari amici, le associazioni Teatro Totale e Morgana Incanta vi danno il benvenuto a un altro incontro di appuntamenti d'opera, un'iniziativa che mira a tenere desta l'attenzione su questo nostro patrimonio culturale. L'opera deve vivere, lo sappiamo, lo vogliamo fortemente, adesso stiamo ancora a casa o iniziamo a uscire con attenzione e con parsimonia, ma ricordiamoci questa splendida iniziativa dell'opera in streaming non può mai essere confusa con l'opera in palcoscenico. L'opera è uno spettacolo che deve vivere dal vivo, permettetemi il gioco di parole. Bene, in attesa di ritornare a teatro, di vivere l'esperienza del teatro live, godiamoci questa serata. Questa sera siamo in compagnia di Gaetano Donizetti, uno dei più famosi, dei più prolifici autori dell'opera italiana. Gaetano Donizetti, brevicenni, nasce a Bergamo da una famiglia semplice e dimostra da subito un grande talento musicale. Per questo motivo viene preso sotto l'ala protettiva di Simone Maier, un compositore famosissimo all'epoca e proprio grazie a Simone Maier riesce a portare avanti i propri studi musicali e grazie a Simone Maier, che si dimostra davvero il suo mentore, riesce ad avere un primo contratto giovanissimo, poco più che ventenne, al Teatro Polo di Roma, proprio perché Maier declina l'offerta e la cede al giovanissimo Donizetti. Da lì parte il successo internazionale. Da lì l'impresario potentissimo Domenico Barbaia nota il giovane compositore e gli affiderà produzioni successive. Inizia la scalata al successo di Donizetti e quindi Parigi e quindi Londra e quindi Milano e quindi Napoli. E Napoli che ci interessa perché Donizetti arriva grazie a Barbaia e grazie all'interessamento personale di Gioacchino Rossini, che aveva anche lui notato il grande talento del giovane compositore bergamasco, dicevo arriva a Napoli Gaetano Donizetti. Un contratto data fine del 1834. È un contratto per un'opera nuova da realizzarsi per il Teatro San Carlo di Napoli, uno dei più grandi fisicamente e grandi di fama e di notorietà all'epoca. Rivaleggiava probabilmente solo con la scala e spesso ne deteneva il primato. La scelta del soggetto cade su Lucia di Lammermoor ed è proprio Lucia di Lammermoor la rappresentazione a cui assisterete questa sera, tra poco. Il soggetto è arcinoto, narra di una pazzia, di una giovane, una fanciulla che va fuori di senno. È un soggetto molto frequentato dall'opera lirica e prima ancora dalla letteratura. Pensate, la prima opera che ha come protagonista una matta è del 1641 a Venezia, quindi pochi decenni dopo il primo nascere dell'opera. Ma si trattava di un soggetto, quello appunto della follia nell'opera, abbinato al genere buffo. Quindi la follia era vista come qualcosa di satirico, qualcosa di parodistico che suscitasse l'ilarità nel pubblico. Bisogna arrivare al 1700 con il proliferare della letteratura inglese, Samuel Richardson, che affronta soggetti che parlano di follia, di andare fuori di senno in modo triste, malinconico, grave, drammatico. Ecco, bisogna arrivare al 700 perché nel panorama operistico si affacci un soggetto di tale natura, però affrontato in maniera larmoyant. Si tratta di Nina ou la Folle Paramour. È del 1786 e nasce in Francia. Ma è tale il successo che già nel 1789, cioè solo tre anni dopo, il nostro Giovanni Paesiello se ne impadronisce, musica lo stesso libretto in italiano, da titolo Nina, ossia la pazza per amore, ed è un successo planetario. Da lì parte la fortuna del genere pazzia all'opera, vista non più come soggetto parodistico, come dicevamo, ma come soggetto malinconico. La pazzia come strumento per arrivare ed esprimere la più vera, spontanea voce del cuore. Lucia di Lammermoor, appunto, rappresenta certamente il vertice di questa produzione. Non per nulla è il titolo che ha resistito al tempo e alle mode, e la sua capacità di divulgazione di successo è sempre stata riconosciuta. Non ha mai avuto eclissi. Gaetano Donizzetti, a Napoli, conosce Salvatore Cammarano, un giovanissimo artista, poeta, pittore, librettista, romanziere, figlio d'arte, diremmo, che possiede una vena straordinariamente drammaturgica. Voglio dire, riesce a impadronirsi di soggetti anche scomodi da portare in scena, ma riuscendo a trarne sempre l'essenza e rendendoli in numeri drammatici che hanno grande effetto teatrale. Donizzetti familiarizza subito e solidarizza con Cammarano e insieme partono con grande alacrità al progetto, ma incontrano subito le difficoltà con la censura napoletana. Sappiamo tutti che all'epoca le nuove produzioni dovevano passare sotto le forche caudine della censura e non era uno scherzo, soprattutto perché ne abbiamo le testimonianze scritte, perché pare che i censori napoletani non avessero granché voglia di compiere il proprio mestiere, cioè oltre che essere abbastanza duri, decisi, trancani ai loro giudizi, li mettevano molto in ritardo. C'è una straordinaria lettera del 29 maggio 1835 di Pugno di Donizzetti, nella quale il compositore si rivolge in modo animoso ai censori proprio per sollecitarne la risposta. Guardate, l'opera nuova sarebbe dovuta andare in scena già a luglio dello stesso anno e Donizzetti è naturalmente e comprensibilmente spazientito dai ritardi. Ma sentiamo dalla voce di Donizzetti stesso cosa scrive in quella lettera. Il tempo stringe, ed io vi accerto che non posso rimanere più a lungo in simile perplessità, giacché ho altri impegni. Quindi, o compiacetevi di autorizzare il poeta signor Camarrano ad occuparsi senza ritardo del piano di Lucia di Lammermoor, già presentato ed approvato dalla revisione. Ed in questo caso credo potermi compromettere di terminare il lavoro per tutt'agosto. Senza insistere sopra gli quattro mesi di intervallo voluti dal contratto. Altrimenti, permettete che io mi metta in regola, tornando con i miei diritti e i soli patti della scrittura ed annullando ogni facilitazione offerta nella mia prima del 25 corrente ed in questa. Bene, alla fine i censori rilasciano il nulla osta e l'attività di Donizzetti in collaborazione con Camarrano procede a gonfie vele. La composizione impiegò sei settimane. Quindi, conosciuto già per essere un autore molto prolifico, è spesso accusato di essere quasi superficiale nelle sue composizioni, compose quasi 70 titoli, 70 melodrammi. In questo caso Donizzetti in sei sole settimane produsse un autentico capolavoro. Il soggetto The Bride of Lammermoor è di Walter Scott, un autore inglese, romanziere, poeta, assolutamente prolifico e di enorme successo dell'epoca. Pensiamo che dalla sua produzione derivano oltre 30 melodrammi. Questo ci fa capire quanto lo spirito della produzione letteraria di Walter Scott fosse capace di attrarre i desideri, i bisogni, i sentimenti del pubblico dell'epoca. Assistiamo, in due parole, all'irrompere del romanticismo, per come lo conosciamo, per come lo identifichiamo noi oggi, nel mondo della letteratura, dell'arte, della musica. Fu quello di Walter Scott un corpus letterario di vastissime proporzioni, autentico emblema di un genere. Romanzi, poemi, racconti, novelle che, come dice Fedele D'Amico, interpretano lo spirito romantico dell'epoca e lo divulgano. La Mecca di questo genere letterario diventa la Scozia medievale, con i suoi castelli diloccati, le sue foreste, le sue nebbie, le sue ombre. Lucia di Lammermoor è un vessillo, una bandiera di questo genere letterario. Ecco, in una edizione della BUR, la storica biblioteca universale Rizzoli, che tanta cultura riuscì a diffondere tra gli italiani negli anni 40 e 50. Bene, la Lucia di Lammermoor contiene tutti gli elementi che fanno presa sul pubblico. Perché, come dice sempre Fedele D'Amico, riuscire a immaginare su un dato storico esercitava un fascino al quale non si riusciva a resistere, riusciva a creare mondi paralleli. Lucia di Lammermoor vede come protagonista una fanciulla, una fanciulla schiacciata in un mondo di uomini, una fanciulla che vive un periodo molto difficile, un periodo storico reale, di guerre fratricide fra fazioni cattoliche e protestanti e dei partiti politici che stanno loro dietro. Su questo sfondo l'azione di Lucia di Lammermoor si muove, ma mentre in Walter Scott la grande storia è molto più presente e gli accadimenti sono più delineati nei loro tratti di realtà vera o fittizia. Qui nel libretto di Cammarano musicato da Donizetti l'elemento sentimentale prevale. Lucia di Lammermoor e Edgardo di Ravenswood, che sono i due giovani protagonisti, sono in realtà due amanti destinati ad essere separati, la cui storia è fortemente contrastata dalla famiglia di lei. Sono quasi un Romeo e Giulietta trasportati nella Scozia delle Brume. Per risollevare le proprie sorti, le sorti della propria casata, Enrico ha ordito un matrimonio importante. Vuole fare sposare la sorella con Lord Arturo Bucklow, che è un esponente del cattolicesimo, la cui fortuna diventa sempre più montante in previsione della salita al trono della scena di Maria Stuarda. Questo è lo sfondo. Ma Lucia si oppone a quel matrimonio. Lucia è una creatura romantica, è l'esponente principe di quel modello di fanciulla innamorata ed infelice, ahimè, perché è contrastata nel suo amore. Quanto detto, costituisce un po' l'antefatto che è contenuto nella prima parte dell'opera. Salvador Camarano divide l'opera in due parti, li chiama proprio così parti e le nomina la partenza e il contratto nuziale. In realtà la seconda parte, il contratto nuziale è a propria volta divisa in due atti. Quindi troviamo in fondo tre corpi differenziati e Donizetti stesso nell'autografo parla di tre atti differenti. Il primo atto, di cui abbiamo già delineato per sommi capi gli avvenimenti, costituisce una specie di prologo, potremmo dire, perché avviene in un'azione un po' precedente. Assistiamo quindi all'incontro amoroso di Lucia e di Edgardo, durante il quale Edgardo comunica a Lucia di doversi allontanare, perché deve andare in Francia per cercare aiuti politici. E Lucia è disperata. Disperata all'idea di rimanere sola, di essere abbandonata. Edgardo tenta di confortarla, ventilando la possibilità di rendere pubblico il proprio, il loro legame, di parlare con Enrico apertamente, ma Lucia glielo vieta. Lo blocca in questo progetto, ha paura che il palesarsi di questo loro amore provocherebbe loro ulteriori disgrazie. E allora, prima di partire, Edgardo vuole sposare Lucia, con un rito per noi desueto, ma in realtà nella Scozia medievale in voga e accreditato. Lo scambio degli anelli, che costituiva di per sé un vero e proprio atto nuziale. Edgardo e Lucia alla fine della prima parte, la partenza, si sposano con questo rito dello scambio degli anelli. Un anello fondamentale nell'incedere della storia, perché lo ritroveremo più avanti. Passa del tempo, arriviamo al primo atto della seconda parte, il contratto noziale. Si apre con il duetto tra Lucia ed il fratello Enrico. Da questo punto in poi, se fino ad ora avevamo assistito alla malinconia di Lucia, assistiamo purtroppo ad una progressiva compressione di lei, del suo animo, dei suoi bisogni, da parte del mondo circostante, da parte di questi uomini opprimenti e dispotici, che tendono a usare Lucia per le proprie necessità, per i propri fini. Quindi assistiamo ad il duetto fra fratello e sorella, durante il quale Enrico cerca da una parte di dissuadere Lucia dal persistere con quell'amore e dall'altra di convincerla a sposare il potente Lord Bucklow. Lucia, e qui vediamo che non è una debole, Lucia contrasta questo volere del fratello con tutte le proprie forze, ma Enrico ha un asso nella manica. Con il fedele Normanno ha ordito una vera e propria congiura ai danni di Lucia. Per convincerla che le sue aspettative nei confronti dell'amato sono fallaci, hanno intanto nascosto, occultato, distrutto tutte le lettere che Edgardo aveva scritto a Lucia dalla Francia. Non le erano state proprio recapitate e in più costruiscono una falsa prova dell'infedeltà di Edgardo. Durante il duetto Enrico mostra a Lucia questo scritto, fingendo che sia di pugno di Edgardo, e Lucia ci crede. Lucia cade nel trenello, Lucia si dimostra sconfitta. Nel duetto successivo, immediatamente successivo, che avviene tra lei e il suo precettore Raimondo Bilevent, assistiamo ad un ulteriore gradino verso la catastrofe. Anche Raimondo, un uomo di chiesa che dovrebbe amare, in effetti probabilmente ama Lucia, l'ha cresciuta, l'ha allevata, ma anche lui cospira contro di lei. Anche lui fa in modo che la ragione politica prevalga. E lo fa in una maniera ancora più sottile, perché usa i sensi di colpa di Lucia per piegarla. È proprio alla fine di questo duetto che Lucia cederà definitivamente ed esplicitamente. passiamo alla scena successiva, che probabilmente è quella che può essere ritenuta la scena clou dell'opera. Si preparano le grandi nozze, o meglio si prepara la firma, la stipula del nuovo contratto nuziale, quello in cui Lucia è destinata ad Arturo. Arturo arriva normalmente sia per il breve spazio che il libretto gli dedica, sia per ciò che Arturo stesso esprime. Il personaggio rimane molto spesso, come dicevo, un po' in ombra, una figura defilata, quello che nell'opera si definisce quasi un comprimario. Ebbene, a noi è piaciuto in questa realizzazione, che tra poco vedrete, dare un carattere molto più presente ad Arturo e rendere anche lui una specie di Deus Ex Machina, un personaggio che interviene nella storia e rende ancora più insopportabile il sacrificio a cui Lucia si appresta. Ma sentiamo cosa ci dice Fabio Bonocore, interprete del personaggio di Arturo. Quando il maestro De Carlo mi chiamò per propormi il ruolo di Arturo nella sua Lucia di Lammermur, ricordo che rimasi molto colpito dalla sua visione di questo personaggio, che spesso passa un po' in sordina. Invece lui ha voluto dare molto risalto ad Arturo, amplificando il suo essere nobile, altizzoso, sprezzante e condendolo di una eccessiva superiorità quasi irritante, rendendolo addirittura antipatico. Un personaggio ambiguo, torbido, sempre circondato dallo stuolo di suoi favoriti. Dato che il maestro si fidava delle mie capacità canore e attoriali, mi disse per ottenere il ruolo devi dimagrire tantissimo, perché avrai una scena di nudo quasi integrale con Lucia, che ricordo fu una scena di grandissimo effetto. Beh, sono riuscito a rimanere più di dieci chili per l'occasione e ammetto che ne valsa la pena perché quella scena è rimasta negli annali. Arturo Baclo arriva nel castello dei Ashton, spocchioso, antipatico direi, e ostenta tutta la sua ricchezza, quella ricchezza unita alla sua potenza che dovrà salvare la casata di Enrico. Enrico il quale è visibilmente preoccupato, lui sa che Lucia tenterà forse ancora di opporsi a quel matrimonio. E a questo punto Lucia appare. Ho voluto che diversamente dall'abito bianco da sposa prescritto dalla tradizione, Lucia si presenti in nero. Quasi una citazione della sposa in nero di Truffaut. Lucia è dichiaratamente a lutto, sappiamo da Enrico, che la loro madre è morta di recente. Quindi la tristezza, il dolore che traspare dall'immagine di Lucia, da Enrico è contrabbandata per la sofferenza che la giovine prova ancora per la scomparsa della madre. In realtà noi sappiamo che Lucia è disperata di essere trascinata contro la propria volontà a quel matrimonio forzato. Ebbene Lucia apparirà ammantata di Nero e dunque Lucia appare. Una situazione di stress generale coinvolge tutti. Lucia è ammantata di Nero, poco si addice il suo aspetto ad un matrimonio. Enrico è agitatissimo, Arturo è infastidito, Raimondo è preoccupato, Alisa, l'affezionata damigella di Lucia è ansiosa per quello che potrebbe succedere, per le sorti della protagonista. Bene, in tutto questo Lucia ha appena il tempo di apporre la propria firma a quel funesto contratto nuziale che irrompe in scena Edgardo, nello stupore generale. Edgardo è tornato dalla Francia ed è tornato per ricongiungersi a Lucia. Probabilmente arriva al castello, al possedimento degli Ashton proprio perché intende rivelare a tutti quale è il rapporto che lega i due giovani. Ma gli viene sottoposto quel contratto con quella firma. Edgardo, incredulo, chiede conferma a Lucia, sono tue cifre? E lei risponde semplicemente sì. Non riesce a proferire altre parole. Il sapientissimo congegno teatrale costruito da Cammarano ce lo fa quasi assomigliare a quanto avviene nei film o nei telefilm o nelle telenoveli, se volete, quando tutti noi spettatori vorremmo che il personaggio interrogato o messo sotto accusa riesca a insorgere, a dire la sua, a raccontare tutto. E invece no, non avviene così. Edgardo le chiede conferma se quella firma è davvero la sua e Lucia ha la forza di dire in modo strozzato un rantolante sì. A quel punto l'ira di Edgardo esplode, si sfila il proprio anello che era quello che al primo quadro Lucia gli aveva donato e lo scaglia con forza, con amarezza contro la giovine e a lei sfila dal dito il proprio anello, riprendendosi così la propria libertà. E nel furore generale Edgardo viene cacciato via dal castello. Questa scena che vi ho raccontato include il famosissimo sestetto Chi mi frena in tal momento, un brano musicale, un concertato durante il quale ogni personaggio canta su una passione differente. Un brano mirabile che probabilmente insieme a pochi altri costituisce uno dei caposaldi della scrittura musicale di ogni tempo. Si apre il terzo atto e l'azione cambia scena. Siamo nella torre di Volferag, l'ultimo possedimento dei Reverswood. Troviamo Edgardo solo. In una situazione disperata sa di aver perso Lucia, e in quel mentre arriva Enrico. Arriva Enrico a vendicarsi dell'affronto che Edgardo ha compiuto nei confronti di tutta la sua famiglia nell'irrompere durante la festa, durante la firma del contratto Nuziari. In un momento quindi di gioia, di successo politico per Enrico. I due uomini si sfidano ma rinviano il duello all'alba dove, nel cimitero che ospita le salme, gli ultimi della famiglia di Ashton. Ultimo quadro. La festa per le nozze è in atto. Lucia, dopo il matrimonio, si è chiusa nelle sue stanze con il novello sposo per consumare il matrimonio. E durante questa scena festosa di canti e di danze eseguite dal coro, arriva Raimondo. Cessate quel contento. Perché? Perché Raimondo è stato richiamato da un gemito udito proveniente dalle stanze dove Lucia si era ricoverata col proprio marito. Richiamato da quel gemito dolente, trova una situazione sconvolgente. Il corpo insanguinato di Arturo, Lucia ormai fuori di senno, che brandisce ancora il pugnale con cui ha devastato il corpo del marito. Ed ecco che a questo punto ha inizio la grande scena della pazzia, il momento più noto sicuramente di tutta l'opera. Lucia arriva e durante una lunga scena passa ad esprimere i sentimenti più contrastanti. La grande abilità compositiva di Donizetti è stata quella di scardinare la tripartizione classica delle grandi scene dedicate ad un cantante, ad un interprete. Quindi il recitativo, l'aria e la cabaletta diventano quasi un continuum. E soprattutto nella parte centrale, la cosiddetta aria, l'elemento melodico si sfalda quasi proprio per riuscire a sottolineare ancor meglio il disequilibrio, l'inconsistenza, la precarietà della mente di Lucia in quel momento. È un momento di grande teatro, comunque sia rappresentato, qualunque idea registica lo metta in scena. Rappresenta un autentico topos nella letteratura teatrale di tutti i tempi, tanto che sia Flaubert nella sua Madame Bovary, sia Tolstoi nella sua Anna Carienina ne fanno riferimento più o meno esplicito. Sentiamo a questo proposito cosa ha da dirci Desiree Rancatore, la grandissima Lucia, della rappresentazione a cui presto assisterete. Ciao a tutti, sono Desiree Rancatore. Sono molto contenta che la Lucia che ho cantato a Reggio Calabria, al Teatro Cilea, finalmente venga messa in onda in streaming. Ho dei ricordi bellissimi di questa produzione con la splendida regia di Mario De Carlo e con una bacchetta veramente straordinaria, come il maestro Bingham. Lucia è uno dei ruoli che ho più amato nella mia carriera. L'ho cantato infinite volte, ma ogni volta è stata un'esperienza nuova, di studio e scavo del personaggio per renderla fragile mentalmente fino ad arrivare appunto alla pazzia, che è la scena che tutti aspettano e che la porterà alla morte. La morte per l'isperazione, per consumzione, fondamentalmente perché va povere, le si spezza il cuore. Con Mario abbiamo creato un'atmosfera magica in quella scena. Il clima di lavoro è stato sempre molto molto bello, molto intrigante, interessante, di studio, di scavo. Quindi sono veramente contenta che appunto riuscirete a vederlo. Buona visione, divertitevi, anche se Lucia è un'opera molto noir e triste. E spero che apprezziate il lavoro da noi proposto. Ultimo quadro. Cimitero dei Ravenswood. In lontananza il castello illuminato per la festa che è ancora in corso. Edgardo solo. Attende l'alba, attende l'arrivo di Enrico per il duello che lo aspetta. Piange della propria sorte sulle tombe dei propri avi. Ma non arriva Enrico. Prima di lui Raimondo e un gruppo di castellani esce dal castello, piangendo, lamentandosi. Perché Lucia sta per morire. Edgardo apprende questa notizia e ne resta sconvolto. Capisce, vede cos'è avvenuto e mentre invoca la propria amata, sperando, augurandosi di ricongiungersi a lei, estrae il pugnale e si trafigge davanti ai presenti. L'opera termina su questo canto struggente di Edgardo che invoca il proprio amore perduto e si augura di ritrovarla in cielo. Questa è la trama in breve. Lucia di Lammermoor vide la luce il 26 settembre del 1835 al Teatro San Carlo di Napoli, esattamente tre giorni dopo la morte di Vincenzo Bellini a Parigi. Quasi un passaggio di testimone, quasi a sottolineare la perenne vitalità del genere opera italiana che costituisce l'autentico patrimonio dell'umanità della nostra cultura. I primi interpreti furono Fanny Tacchinardi persiani nel ruolo della protagonista e Gilbert Dupré nel ruolo di Edgardo, oltre naturalmente ad altri valentissimi cantanti italiani. E' interessante appuntarci sulla personalità di questi due primi interpreti e trasmettervi qualche annotazione interessante. Primo perché la diva Tacchinardi persiani, che era già una stella del firmamento operistico teatrale in quel momento, si arrabbiò molto con Gaetano Donizzetti perché non attribuì a lei la chiusura dell'opera. Lei era abituata ad un repertorio che prevedeva il gran finale della prima donna, che fosse un finale gioioso con un rondò o un finale tragico con una scena di pazzia. Ebbene, Lucia di Lammermoor, nonostante porti come titolo il nome della protagonista, termina invece con l'assodo del tenore. La Tacchinardi persiani insistette molto e molto si adirò. Non sono pettegolezzi questi, è tutto documentato dalle lettere di Donizzetti e il periodo delle prove fu costellato da alcune tensioni proprio per questo motivo. Donizzetti stesso scrisse che l'autentica star della serata non sarebbe stata la Tacchinardi persiani ma il tenore. Fermiamoci un secondo solo sulla figura di questo tenore. Questo tenore intendo sia sul personaggio Edgardo sia sull'interprete Gilbert Dupré. Come abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione, gli anni stanno cambiando, l'estetica in tutta Europa sta cambiando, la cultura si è ormai imbevuta di romanticismo. Già tipico irruzione e altri temi. L'animo umano viene fuori con tutte le sue tensioni, contraddizioni, i sentimenti vengono espressi con una vehemenza, con una verità ignota ai secoli precedenti. Ebbene, anche nell'opera lirica avviene questo. La figura del tenore, pur esistendo sempre in precedenza, era all'origine relegata a ruoli di fianco. Sappiamo tutti che il protagonista era incarnato dalla voce di Castrato. Quindi il tenore era quasi sempre o un antagonista di secondo livello o un anziano padre. Gradatamente assorge ad un'importanza sempre maggiore, parallelamente, come dicevamo, l'irrompere di altri sentimenti. Il primo tenore romantico si fa coincidere con il ruolo di Gualtiero nel Pirata di Vincenzo Bellini. Siamo nel 1829. Già questo ruolo assolutamente protagonistico assorge un'altra allure rispetto ai ruoli tenoridi precedenti. Da lì in poi è un continuo ascendere del tenore, impadronirsi della scena lirica. Ma col ruolo di Edgardo e nella Lucia di Lammermoor assistiamo ad un ulteriore balzo in avanti. Un po' per la scrittura di Cammerano che, come abbiamo detto già, riusciva a tradurre in modo mirabile queste emozioni brucianti. E' un po' perché il primo interprete fu Gilbert Dupré. Dovrei dire il famigerato Gilbert Dupré. Arrivava da Parigi dove la scena lirica era a pannaggio di tenori che oggi definiremmo di grazia, ma forse non lo erano del tutto. Sicuramente avevano un modo di cantare molto più elegiaco, molto più malinconico, molto più dolce in una parola. Adolphe Noury era il protagonista di quel genere di vocalità. Gilbert Dupré stentava a imporsi e quindi cercò in Italia fortuna. Nel 1831 a Lucca ha luogo una rappresentazione del Guglielmo Tell di Rossini. Gilbert Dupré incarnava il ruolo di Arnoldo. Ebbene, quella sera a Lucca nacque il primo do di petto della storia dell'opera. Emesso proprio da quel Gilbert Dupré che da lì in poi diventò, diremmo quasi oggi, un fenomeno da rotocalco per il suo modo assolutamente nuovo di emettere i suoni acuti. Gilbert Dupré è il creatore del ruolo di Edgardo. Sappiamo che Donizetti era entusiasta di questo approccio e amò molto l'interpretazione di Dupré in quel ruolo. Da quel momento in poi, nonostante atteggiamenti critici, osteggianti da parte dei benpensanti che mal tolleravano anche l'estetica di questi suoni nuovi, in realtà da quel momento questi suoni nuovi presero il sopravvento. Ecco perché dal 1835 e dalla Lucia di Lammermoor nasce, se non il tenore romantico, il completamento di una struttura tenorile che porterà ai ruoli tenorili verdiani. Gilbert Dupré divenne un autentico divo. Ritornò nella sua Parigi e rientrò trionfante all'Opera, tant'è che il povero Adolphe Noury scappò dalla Francia. Non riuscì a sostenere il confronto, riparò a Napoli dove avrebbe intrapreso un'altra brillante, una seconda parte della sua carriera. Ma evidentemente la fortuna lo perseguitava. Pensate a Napoli con Donizetti, costruisce il ruolo di Poliuto, ma non riuscì ad andare in scena a causa della terribile censura napoletana. Poliuto non vide la luce allora, Noury rimase a Napoli, Donizetti andò a Parigi e lì mise in scena Poliuto con il titolo Le Martyr. Ebbene, sapete chi interpretò il ruolo di Poliuto all'Opera? Gilbert Dupré fu un tale colpo per Noury che non riuscì mai a riprendersi e che lo portò in breve tempo al suicidio. Con questa nota triste ma significativa per la temperie di quegli anni e per farci capire quanto l'opera fosse radicata nella cultura dell'epoca e fosse un genere assolutamente popolare, concludo dicendo che Lucia di Lammermoor ebbe una fortuna strepitosa, planetaria, da subito. Ebbene, questo è il libretto originale, autentico, della prima rappresentazione avvenuta a Venezia, al Teatro Apollo nel Carnevale del 1836. Nel settembre del 35 era andata in scena la prima a Napoli, nella primavera del 1836 va in scena la prima a Venezia. E noi leggiamo da questo libretto, all'epoca i libretti fungevano anche un po' da programmi di sala, dicevano anche i nomi degli interpreti, vedete l'argomento voluto dall'autore, e chi era Lucia? Ebbene, la signora Fanny Tacchinardi Persiani. Adesso io vi auguro di godervi la visione di questa nostra Lucia di Lammermoor che abbiamo molto amato nel farla. Lascio la parola a Serenella Fraschini per un ultimo saluto e un augurio di buona visione. Buonasera cari amici. La mia presenza qui è solo per sottolineare in qualità di presidente dell'Associazione Culturale Morgana in Canta l'importanza dell'iniziativa che Teatro Totale sta portando avanti. In un momento in cui i teatri sono ancora chiusi è importante che la cultura entri nelle vostre case, ma solo per ricordarvi che tutti aspettiamo il momento in cui torneremo nei teatri a fare l'opera in palcoscenico e con un vero pubblico in platea. Colgo l'occasione per ricordare che negli anni dal 2008 al 2012 il teatro comunale Francesco Cilea vide quattro gloriose stagioni d'opera. Quattro stagioni in cui si avvicendarono nomi splendidi del firmamento operistico. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare Giovanna Casolla e Nicola Martinucci nella Turandot di Giacomo Puccini. Abbiamo avuto Giuseppe Figlianoti nel Werther, Renato Gruson come Falstaff, Marili Nizza come Mimì nella Bohème di Giacomo Puccini e ancora un giovane gagliardo Stefan Popp nel Rigoletto di Giuseppe Verdi, Paoletta Marrocu e Alessandro Safina nella Vedova Allegra, Francesco Anile in Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Ma abbiamo avuto la grande Desiree Rancatore come protagonista inarrivabile della Lucia di Lammerburg. È con gioia quindi che vi lascio in compagnia di questa produzione. Produzione rispettosa delle tradizioni operistiche ma ricca di riflessioni e idee registiche interessanti. Voglio ancora sottolineare l'importante sforzo produttivo condotto nella produzione che vi ho appena citato. Assisterete tra poco a questa messa in scena che è stata realizzata con l'apporto della ditta Sormani per le scenografie, della Sartoria a Rigo per i costumi e l'attrezzeria di Rancati. Parliamo di nomi che per chi appartiene al settore e non soltanto sono dei protagonisti della scena lirica dei nostri anni. Buona visione a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie. 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 Grazie.